Ucci alla riscossa? Chissà. Continua il lavoro di sviluppo delle coperture MRF Tiles per Paolo Andreucci, che nel prossimo fine settimana sarà al via del Rally Regione Piemonte, secondo appuntamento del campionato italiano assoluto Rally Sparco, in programma venerdì 12 e sabato 13 aprile. Il grande campione Garfagnino, 14 titoli assoluti in bacheca, portacolori della scuderia Raw Racing di Rosario Montalbano, prenderà il via nell'impegnativa gara su asfalto al volante della Citroen C3 Rally 2 del team Turbo Car Sport Italia e sarà affiancato, come di consueto, dall'ormai fidato ed esperto navigatore Rudy Briani. Nonostante la delusione per il mancato via al Rally del Val d'Orcia, Paolo Andreucci era comunque presente a Radicofani, ha riscosso notevole successo l'MRF Trofe Italia Terra, trofeo riservato per gli specialisti delle strade bianche, che alla sua prima edizione può contare già sulla partecipazione di oltre eventi equipaggi. Tornando però al campionato italiano assoluto rally, dopo il settimo posto al ciocco con un finale in bel crescendo, il popolare Ucci conta di migliorare la propria performance e magari, grazie alla sua calasse cristallina, anche di poter lottare per una posizione a ridosso del podio.